Welcome back su Caneggio e Corsari, sempre io Ambro anticipato, argomento spinoso, quello del video della Marvel Champions Academy di oggi ed è la Buyer Guide, la guida all'acquisto in Marvel Champions prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al caneggio e corsari cliccare anche sulla campanellina così non vi perdete nessuno dei nostri video argomento interessante, argomento molto spinoso argomento che va benissimo per le nuove leve partiamo dalla domanda, cosa comprare in Marvel Champions? vi do la risposta mia e poi la ragioniamo la mia risposta è quello che volete molto semplice, sembra una cosa banale, ma è vero innanzitutto ovviamente bisogna prendere il set base, il corsetto il corsetto serve perché all'interno ha tutte le carte base più importanti ha i segnalini, ha anche un'evoluzione di gioco basica che si basa su diversi stadi, da Rhino a Klo a Ultron, quindi anche una difficoltà crescente che vi aiuta a entrare in questo mondo, quindi sicuramente il base ce l'abbiamo bene, dopodiché come ampliare la collezione di Marvel Champions? ormai siamo arrivati a tantissimi pack eroi siamo arrivati a 4 campagne, una quinta campagna uscirà a settembre con quello che sono i mutanti e ci sono top pack scenari innanzitutto nel base ci sono degli eroi iconici della Marvel Pantera Nera, Capitan Marvel, Spider-Man, Iron Man e Shulk un po' meno iconico, però c'è anche Shulk, anzi è più iconico adesso perché c'è anche la serie TV e quindi questi qua sono quelli che noi incontriamo nel base dopodiché abbiamo una serie di pack eroi tra cui scegliere come è composto un pack eroe? possiamo vederlo qua per esempio in quello di Spider Pork che è Spider-Ham in realtà in italiano va bene, nel pack di Spider-Ham abbiamo il suo eroe e il suo alter ego il suo set specifico, quindi le sue 15 carte all'incirca di specifiche più un aspetto che gli viene assegnato in questo caso per esempio per Spider-Ham è giustizia ma in ogni pack ogni eroe ha un aspetto da cui gli viene assegnato per esempio Venom ha l'aspetto offensivo Capitan America ha l'aspetto autorità invece Ghost Spider ha l'aspetto protezione e così via quindi ogni pack che noi compriamo base gli ha assegnato un aspetto con carte per quell'aspetto che vanno bene per tutti i mazzi alcune sono ristampe alcune invece sono carte ex novo dopodiché i primi pack contengono all'interno altre carte degli altri aspetti quindi per esempio se c'è Capitan America che è autorità avrà oltre al suo mazzettino delle carte che sono carte per offensiva, protezione e giustizia negli ultimi pack queste carte vengono sostituite da un set modulare aggiuntivo cosa che io trovo molto molto interessante quindi a questo punto si può fare una scelta in base all'aspetto dell'eroe ma secondo me è una scelta sbagliata perché tanto in questo gioco lo sappiamo e lo diciamo proprio fra i denti prima o poi se il gioco piace, se il gioco prende si acquisterà tutto ma cosa prendere per prima cosa? Quali sono le prime cose da prendere? gli eroi che ci piacciono questo gioco si presta molto bene, giocato a livello standard anche a utilizzare i pack senza costruzione del mazzo senza una personalizzazione nostra del mazzo quindi possiamo scegliere gli eroi che più ci aggradano da Scarlet Witch a Quicksilver a Iron Earth Nova Venom Venom, Venom, Venom bellissimo, Venom non mi piace, vero? e così via dopodiché questi sono i pack che noi possiamo scegliere gli eroi l'altro mio consiglio prima di passare magari ai scenari specifici anche se c'è uno che mi piace tantissimo ma lo vedremo dopo andrei su una campagna le campagne sono 4 questa per esempio è l'ultima che uscita a sinistra di direzioni e come funziona una campagna? all'interno di questo boxettino della campagna noi troviamo due eroi quindi con le loro carte base e il loro set e il loro aspetto per esempio in quello di sinistra di direzioni c'è Mice Morale e Giustizia Ego Spider che invece è protezione e 5 criminali che possono essere giocati sia in modo singolo che in versione campagna questo vuol dire con una storia all'interno di questo libretto noi abbiamo un fumetto con gli diversi scenari piano piano seguiamo la storia ovviamente man mano che andiamo avanti nella storia il nostro matto si potrà arricchire di alcune migliorie offerte apposta e studiate apposta per la campagna sicuramente questa è un'esperienza che consiglio perché rende il gioco un po' più narrativo in base a invece singolarmente potrebbero essere delle one shot o delle partite singole così lo rende molto più narrativo ed è per adesso come vi dicevo ce ne sono 4 campagne Teschio Rosso che è quella basata sull'Hydra diciamo quella dei guardiani della galassia quella di Thanos con le gemme dell'infinito e appunto quella di sinistra intenzione il mio consiglio è di tenere quella dei più ricercati della galassia quindi quella diciamo quella un po' più particolare all'ultima perché è quella un po' più difficile dove ci sono per esempio Nebula Rona nel collezionista quindi la terra è per ultima quella ovviamente se ci sono i due eroi che sono Rocket e Groot all'interno ci piacciono la prendiamo comunque io inizierei quasi sicuramente da quella che è la prima che è uscita quella dell'Hydra perché è quella più istruttiva abbiamo 5 scenari che dove affronteremo poi come ultimo criminale Teschio Rosso e quindi molto caratterizzata poi passerei ovviamente a quella di Thanos sinistra intenzione e ultima ricercati quindi questa è un po' la mia classifica di acquisti se vogliamo addentrarci nelle campagne dopodiché pack scenari ci sono differenti pack scenari c'è quello di Goblin molto molto bello con due all'interno due versioni di Goblin quella di Ormah Osborn e quella di forma mutagena quindi quando già lui è riuscito a prendere sopravvento poi c'è il pack scenario di Kang anche questo bellissimo perché è un pack molto particolare che porta i giocatori a giocare partite diverse all'interno della stessa molto carino che si basa sul tempo diciamo il pack scenario della squadra di demolizione quello è venuto forse un po' peggio rispetto agli altri dove noi dobbiamo affrontare i 4 della squadra di demolizione in sequenza e dopodiché il pack scenario di Hood che è quello che a me piace più di tutti come abbiamo già anticipato perché Hood rende variabilissimo il gioco Hood viene dato nel suo pack scenario insieme a 7 incontri modulari ha un'abilità particolare che dice come nel setup quindi nella preparazione della partita di scegliere top set modulari io per esempio personalmente li scelgo tra tutti quelli all'interno di Marvel Champions che siamo arrivati più di 40 cosa almeno ogni volta che si attiva un'abilità particolare o passa di stadio il nostro criminale si aggiunge un set modulale diverso al mazzo quindi dà una variabilità pressoché infinita al gioco e a me piace davvero davvero tanto questo scenario quindi però lo consiglio a chi è già un po' più esperto nel gioco non proprio le prime leve le prime leve io inizierei con il corset il pack eroe che ci piacciono è una espansione di campagna dopodichè se vogliamo invece fare una cosa oggettiva una guida oggettiva a cosa comprare dopo il corset sicuramente io andrei a prendere gli eroi forti di questo gioco gli eroi forti di questo gioco sono Doctor Strange che aggiunge anche delle carte di protezione molto molto importanti che si giocano tuttora Capitan America che aggiunge anche qui delle carte molto forti per la tua verità Venom perché è molto forte anche lui e Ant-Man perché oltre ad avere meccaniche particolari ha anche delle carte interessanti questi qua sono i quattro eroi se vogliamo essere forti da giocare ovviamente ripeto secondo me la guida al comprare Marvel Champions si basa molto su quello che a noi piace perché poi è un gioco il gioco deve piacere ci sono gli eroi che ci piacciono magari non sono fortissimi si giocano ripeto a livello standard ogni pack anche se non modifichiamo il mazzo può essere tranquillamente giocato contro i criminali magari non tutti alcuni sono criminali sono davvero davvero forti per esempio Ronan che fa parte della campagna di ricercate della galassia però tutti gli altri possiamo affrontarli in maniera efficiente in maniera divertente questa è la mia buyer guide la mia guida all'acquisto per Marvel Champions se avete dei dubbi se avete delle domande se non siete d'accordo con la mia analisi perché è giusto il mondo è bello perché è vario scrivete qui sotto ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti